Ciao a tutti, mi trovo sotto il colonnato della Basilica di San Pietro a Roma e mi viene in mente che la nostra vita ha bisogno almeno di tre colonne per far reggere tutta la nostra vita umana e cristiana. La colonna della fede, forte, granitica, la fede della paternità di Dio, la fede in Dio e l'abbandono in Lui, la fede della speranza in un mondo e in mezzo a un'umanità che forse difetta di speranza. La speranza ci prende per mano e ci porta avanti. Poi la colonna meravigliosa dell'amore, della carità a Dio e della carità ai fratelli. Bene, con queste tre colonne andiamo avanti. Potremo costruire la vita che vogliamo e sarà bellissimo. Verrà fuori un bellissimo palazzo, il palazzo della nostra vita. Auguri, auguri a tutti noi. Ciao.